E l'ultimo appuntamento che vi segnaliamo in questa giornata ci porta alla sede della Federazione Nazionale della Stampa. Il tema è quello della sicurezza. Verrà presentato il report 2022, amministratori sottotiro sulle minacce, aggressioni e intimidazioni agli amministratori locali. Tra gli ospiti di questa giornata è la ministro dell'interno Piantedosi. Dunque vi racconteremo anche questo appuntamento.